Un augurio di cuore da parte dell'Unione Industriale e di tutte le imprese del territorio a tutta la cittadinanza per un Natale non solo sereno ma che sia anche forviero di un rilancio grazie anche ai fondi e un rilancio sia all'insegna dell'unità e della condivisione degli intenti. Questo è l'augurio migliore che posso fare per la cittadinanza e ovviamente auguri a tutte le famiglie. Grazie.